Musica Come stai? Abbiamo visto da ieri in Vresa, da ieri c'è una casa In realtà è un po' questa, siamo comunque profughi e sfollati Non risponde alla necessità di noi sfollati, non risponde alla necessità di noi genovistica La questione invece degli sfollati è una questione che invece a noi ci tocca carne viva Allora, oggi c'è nel decreto l'Una I problemi di questo Ponte sono i problemi di tutta l'Unione Ci vuole grande serietà, soprattutto per non illudere queste persone Adesso il tema serio per tutti è concentrarsi sugli emendamenti per migliorare il decreto insufficiente del governo Abbiamo ascoltato le richieste del comitato, ci sono delle ragioni fondate per chiedere al governo di cambiare il decreto e migliorarlo In particolare per le aspettative di queste famiglie nella certezza dei finanziamenti e nella certezza dei temi Il fatto stesso che nelle procedure e nei tempi il decreto dica pochissimo In particolare per queste famiglie è un bonus che va superato Bene che si sia fatto un provvisario dopo 51 giorni si poteva fare prima, si poteva fare meglio Però al di là delle polemiche, adesso qui ciascuno deve dare una mano